... ... 59esima edizione Perta Ormina Film Festival Tanti gli attori, tanti premi Oscar che stanno arrivando appunto in questa splendida città Festival organizzato da Mario Sesti direttore editoriale e dalla General Manager Tiziana Rocca Benissimo, quali sono i film più attesi? Sicuramente Man of Steel L'Uomo d'Acciaio, Superman ... Torna nelle nostre sale interpretato da Enrica Ville per la regia di Zack Schneider Tante le madrine per le diverse serate, vediamo Ornella Muti Madrina della serata in onore della fondazione Principe Alberto di Monaco Madrina di Campus, Giorgia Surina mentre siamo in attesa che arrivino Cristiana Capotondi Cristina Chiabotto Grande trepidazione per l'arrivo dei più grandi, dei colossal attendiamo Russell Crowe Meg Ryan Jeremy Irons Giuseppe Tornatore E anche il nostro italianissimo Nicholas Vaporidis E sarà la Disney a chiudere il festival di Tormina con un colossal western questa volta Johnny Depp cambia ruolo interpreterà un indiano un indiano tonto Il film si chiama The Lone Ranger e insieme a lui vedremo Armi Amer e Grazie a tutti. Grazie a tutti.